cari amici del mondo della radiestesia buonasera e bentornati qui sul mio canale altro video pro promo perché sto apportando anzi ho apportato in questi due anni che insegno radiestesia e radionica alcuni cambiamenti nel programma di studi allora intanto il corso di radiestesia e di radionica potete scegliere di farlo in due modi o collezioni dal vivo online oppure con un corso registrato e entrambe queste possibilità hanno dei vantaggi intanto il corso registrato vi consente anche di avere più delle dieci ore che andrete a fare con me perché perché sia se voi acquistate il corso registrato sia quello online con me dal vivo avrete comunque la possibilità di usufruire non solo di un tot di ore cinque sei ore comprese con me dal vivo ma soprattutto avrete il diritto di poter usufruire anche di tutti i piccoli corsi che faccio almeno una volta ogni mese e mezzo due quindi alla fine sono più delle dieci ore che andrete a fare di dire direttamente con me è ovvio anche che a livello di costi un po di differenza c'è ok allora il corso registrato costa 130 euro se lo fate con me 180 ok ho abbassato il prezzo prima era due e venti perché 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 poi è subentrato tutto il casino che stiamo vivendo tante persone vogliono fare il corso hanno difficoltà era un prezzo troppo alto allora l'ho un po abbassato potete farlo anche a rate sia sia la versione registrata appunto dal 130 euro sia quella completa da 180 euro vi parlo un po' del programma del corso in intanto partiamo proprio dalle basi quindi che cos'è la radiestesia che cos'è la radionica che cos'è il pendolo bacchette al e il biotensor i testimoni che cosa sono come si creano e perché sono importanti le acque vibrazionali come si creano e cosa sono il disco delle 36 forze come si crea un condensatore cosmico e le rate radioniche l'importanza del suono come strumento che modifica la materia come si può effettuare un riequilibrio energetico funzionale un rio un riequilibrio dei chakra scusate il trattamento del 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 trauma la riflessologia radionica sia fisica che energetica le macchine simboliche e elementi di radiestesia di radionica egizia quindi andremo a parlare della grande piramide che ope del pendolo karnak del pendolo di ptà di iside ador iside e ufo come si crea un circuito radionico e soprattutto elementi di etica e legge 4 del 2013 questo perché perché i i miei attestati contrariamente a quelle di tante altre scuole ma non di tutte hanno la ticitura ai sensi della legge 4 del 2013 cosa vuol dire che per legge noi possiamo fare questo mestiere senza particolari percorsi di di studio riconosciuti anche perché parliamo di una materia non riconosciuta ok quindi questo che cosa vuol dire che il nostro obbligo è pagare le tasse figurati avere la dicitura legge 4 del 2013 su tutti i documenti scritti che ci fanno rapportare con il cliente quindi biglietti da visita e brochure carte intestate sito e attestati e poi abbiamo l'obbligo ovviamente di non sfociare in ambiti di competenza di altre professioni il mio corso è certificato a livello internazionale dall'international practitioner of holistic medicine iph m è accreditato è accreditato anche dal dal mio roi il registro operatori olistici italiani ed è parte integrante del percorso di operatore olistico ad indirizzo radioestesico e radionico quindi questo corso più i due corsi di pendolo ebraico più cristallo terapia e radionica vi consentiranno di prendere un testato cumulativo di operatore olistico ad indirizzo radioestesico e radionico all'interno troverete anche delle piccole attivazioni programma di lavoro sci a manico l'acqua della da brigitte e il lunar light tempale che servono semplicemente a stimolare il nostro intento perché alla alla fine alla base della radia di radia si sia della radionica non c'è solo una tecnica ma c'è anche l'intento se l'intento è forte abbiamo un certo tipo di risultato se l'intento è scritto male debole non viene dal cuore possiamo usare le tecniche che vogliamo ma non ma non otterremo mai nulla non ci sono esami il corso registrato va sulle quattordici quindici ore all'atto del pagamento vi sarà fornito materiale via mail e link e password dove potrete scaricare non solo le mail le scusate le dispense quindi circuiti sono centinaia di circuiti e quadranti davvero c'è un mondo intero da studiare e ovviamente ci sono anche i video ok quindi partito ovviamente dal primo e così via è un corso che parte dalle basi per poi dopo crescere ok è funzionale anche al corso di pendolo braico che può essere fatto anche per conto proprio però se secondo me è ancora più efficace se o prima o dopo si affianca questo corso di radia e se si è di radionica ripeto i costi centotrenta euro per la versione registrata con cinque ore incluse cento ottanta per la versione dal vivo online con me via zoom skype whatsapp telegram come vi pare a voi se vi presentate con una situazione economica disagiata avete il reddito di cittadinanza siete occupati siete disoccupati siete cassa integrati allora potrete usufruire della borsa di studio intitolata mio padre e farvi tutto il corso completo a soli ottanta euro questo è un vantaggio che do anche perché stiamo ai vent'anni tondi tondi della morte di mio padre quindi per tutto cu e stanno c'è la possibilità di fare l'intero corso a soli ottanta euro tutti gli attestati che do alla fine sono circa cinque sei se mili chi edete anche quelli delle attivazioni perché spesse volte quelli neanche vi interessano sono tutti certificati non è un semplice attestato di partecipazione questo è importantissimo ok in italia è carta straccia ma come carta straccia qualsiasi attestato proveniente da qualsiasi scuola che fa questo tipo di insegnamento ok però da sicuramente un credito maggiore anche a noi stessi da anche io ho fatto tanti corsi il semplice attestato lì con una firma buttato là non gli ho dato neanche io il valore qui invece l'attestato acquisisce una consapevolezza maggiore per questo ho deciso di in investire nelle certificazioni che altro c'è da dire se volete acquistare il corso chiedere altre informazioni potete contattarmi a tre quattro cinque nove sette tre due zero tre uno emiliano amici ghiocciolotmail.com www.mitakuyoyasin.it il gruppo di facebook il mondo della radiestesia dei tarocchi oppure se vogliamo fare prima mi mandate un whatsapp cliccando sul link api punto whatsapp e poi c'è tre tre nove tre quattro cinque eccetera e andate direttamente su whatsapp quindi potete contattarmi come quando volete voi ovviamente c'è una assistenza anche durante il corso e dopo quindi con un email con un messaggio per qualsiasi dubbio o perplessità io sono e rimango a vostra disposizione spero di avervi nella mia classe virtuale potete cominciare il corso quando volete l'accesso al sito è 24 ore su 24 7 giorni su 7 e non ha scadenza alcuna quindi potete prendervi tutto il tempo che volete quindi se avete problemi con figli con mariti con mogli con nonni così col lavoro col pilates con la palestra con la spesa con il calcetto e con la piscina sappiate che potete farvi il corso quando vi pare e piace tram tramite il computer tramite un tablet tramite uno smartphone ok per ogni dubbio sono qui a vostra completa disposizione un caro saluto a tutti grazie per l'attenzione